Le protagoniste di questo mondiale. Il pareggio sta stretto ai bianco celesti di Dabares che hanno dominato soprattutto nella ripresa la Spagna di Luisito Suárez. La delusione viene proprio di Ayossi, incapaci ad organizzare il gioco e soprattutto di essere pericolosi in area avversaria con Budra Ghegno e Mitchell copie sbiadite dei campioni di un recente passato. Nell'Uruguay ottima la prova di Enzo Francescoli con Ruben Sosa sempre pericolosissimo nonostante abbia fallito un rigore. In 90 minuti una sola palla go per la Spagna, sciupata così da Budra Ghegno. Sfortunato l'Uruguay nel primo tempo su questa gran botta di alzamenti Subizzarreta riesce a deviare la palla sulla traversa. Nella ripresa è ancora il portiere spagnolo ad opporsi ad un gran sinistro di Ruben Sosa poi il genovano Pass sulla respinta non trova la porta. La grande occasione al 26esimo della ripresa, angolo di Ruben Pass testa di Gutierrez e Villarouca respinge con la mano sulla linea di porta. L'arbitro Colle indica il dischetto del rigore. Tira Sosa che manda le stelle. È 0-0. Nel gironè la classifica vede ora al comando il Belgio con due punti. Uruguay e Spagna 1. L'American defense beats Tony Miola. It is 1-0. ...made this again. We've seen this a few times. He's chucking...